Bentornati a tutti sul canale. Oggi andiamo a valutare FedEx, un'azienda che ci è stata richiesta da un nostro spettatore sotto l'ultimo video della valutazione di Alibaba. Lo ringraziamo innanzitutto per lo spunto e adesso andiamo al dunque. Non crediamo che un'azienda come FedEx abbia necessità di un'introduzione, ma comunque diamo qualche spunto. FedEx fornisce ai clienti e alle imprese di tutto il mondo un ampio portafoglio di servizi di trasporto. È stata fondata nel 1971 e ha iniziato le sue prime operazioni nel 1973. Nel 2016 poi ha acquistato TNT Express che le ha dato l'accesso alla rete di distribuzione europea della stessa società. I costi di una società come FedEx caratterizzati da investimenti significativi per aerei, veicoli, tecnologia, strutture e attrezzature. Infatti le spese in conto capitale sono generalmente pari al 7 o il 9% delle vendite. Ora scendiamo più nel dettaglio per andare ad analizzare l'azione. Infatti vediamo che FedEx ha un market cap di 66,77 billion, un ricavo pari a 89,55 e un utile di 4,91. L'ultimo EPS registrato segnava un 18,52 con un gross margin del 27,46%, un net profit del 5,48 e un ratio debt equity dell'80,20%. Occhio a quest'ultimo dato perché sarà fondamentale nella comparazione tra FedEx e il suo maggiore competitor. Andando ad analizzare poi quello che è il PE dell'azienda notiamo che si aggira sui 13,6 contro un 16,7 del PE dell'industria dei trasporti. Quello che però possiamo notare è che FedEx genera un aumento degli earnings del 9,5% contro una crescita media del settore dello 0,7%, mentre per quanto riguarda i ricavi ci troviamo sulla stessa linea, un 4,4% in aumento contro il 4,3% medio dell'industria dei trasporti. Abbiamo voluto inserire questo grafico all'interno del video perché ci mostra un andamento lineare crescente dei ricavi e un gross margin superiore al 20%, anche durante il periodo pandemico. Il dato ultimo fondamentale che vi vogliamo mostrare è il ratio del debit ed equity che si aggira intorno all'80,20%. Noi quando andiamo ad analizzare un'azienda facciamo caso a quello che è l'indebitamento finanziario perché questo ci mostra effettivamente quanto può essere rischioso l'investimento all'interno di un'azienda. È normale che un'azienda che debba investire a livello strutturale anche per aumentare quella che può essere la sua capacità di consegna abbia un ratio di questo tipo così elevato. Analizzando poi quello che è il dividendo che rilascia l'azienda vediamo come si aggira intorno all'1,2% contro un dividendo medio dell'industria dell'1,4% e un prospetto futuro di arrivare entro il 2025 all'1,3%. La cosa buona e anche qui attenzione a questo dato è che presenta un payout ratio del 16% e un futuro quindi basato sull'1,3% del 13%. A seguito di tutte le considerazioni fatte ora andiamo a valutare effettivamente a livello pratico quello che può essere il fair value dell'azienda. Attraverso il discount cash flow model troviamo che il prezzo corretto di valutazione si aggira intorno ai 299,14 dollari per azione. Oggi il prezzo attuale è di 252 dollari quindi troviamo una situazione di sottovalutazione del 15%. Questo per noi non significa un buy ma che comunque l'azienda viene sottovalutata rispetto a quelle che sono effettivamente le sue caratteristiche. Ora andiamo a fare un riepilogo di quello che è l'azienda FedEx e i suoi rischi, quindi abbiamo potuto vedere che ha un gross margin più o meno superiore al 20% a livello storico, un ratio di debt equity pari all'80,20%, un PE sottovalutato rispetto a quello che è il PE dell'industria, infatti si attesta al 13,6 contro un 16,7 del PE dell'industria del trasporto, un dividendo interessante che può crescere nel tempo grazie a un payout ratio inferiore al 20% e infine utilizzando il modello di discount cash flow abbiamo visto che l'azienda risulta attualmente sottovalutata del 15%. I due maggiori competitor dell'azienda sono UPS e DHL. Abbiamo deciso però di analizzare nel profondo UPS proprio perché è il maggiore competitor di FedEx. Queste due infatti sono le società leader di servizi di consegna e principali concorrenti tra di loro. Tuttavia le due società hanno due modelli di business leggermente differenti, infatti l'azienda UPS è specializzata in servizi di consegna via terra nazionali, mentre FedEx è specializzata nel trasporto aereo internazionale espresso. Andando a scavare maggiormente all'interno di un'azienda come UPS notiamo un dividend yield dell'1,77% con una crescita per i prossimi 5 anni del 17,50%. Ad oggi UPS ha un market cap superiore a quello di FedEx, infatti è pari a 201,74 billion. I ricavi si attestano a 97,29 con gli utili a 12,89. L'EPS attuale è di 14,83, un gross margin inferiore al 20%, quindi a 17,75, con un net profit al 13,25 e attenzione quello che avevo detto in precedenza, ovvero un debt equity del 153,60%, che se ci ricordiamo bene è superiore rispetto a quello di FedEx. Ad oggi in più il PE si mostra come in linea con quello del mercato, ovvero un 15,80 contro un 16,7. Il dato finanziario per noi più importante è proprio questo, il debt equity dell'azienda UPS che rispetto a FedEx si trova ad un 153,60%, quindi superiore all'80% di FedEx. La valutazione con il discounted cash flow model ci presenta un'azienda ad un fair value di 219,58 dollari contro un prezzo attuale di 232,11. L'ultimo aumento del prezzo dell'azione lo abbiamo avuto proprio al rilascio degli utili pochi giorni fa. Ha portato infatti l'azienda da essere leggermente sottovalutata a leggermente sopravvalutata. Questo 5% per noi significa che l'azienda comunque è correttamente valutata rispetto a quelle che sono le sue effettive capacità. Ora prendendo i dati esposti durante il video andiamo a metterli in comparazione tra l'azienda FedEx e il suo concorrente UPS. Vediamo infatti che UPS risulta più grande rispetto a FedEx, con quest'ultimo però che ha un debt equity inferiore rispetto al suo concorrente. Il PE ci porta a pensare che FedEx sia sottovalutato dal mercato, infatti si trova anche quest'ultimo ad essere inferiore rispetto al PE di UPS con un 13,6 contro un 15,80. La crescita dell'EPS nei prossimi 5 anni per FedEx è del 17%, contro una crescita dell'EPS ai 5 anni di UPS del 14. Andando poi a notare quelle che sono le valutazioni attraverso il discounted cash flow model, notiamo come UPS sia correttamente valutata mentre FedEx continua a avere una sottovalutazione. In più il dato fondamentale dell'analisi è il debt equity. Una società sottovalutata con debito inferiore può essere vista con un occhio migliore rispetto alle sue concorrenti. Ti ringraziamo per essere arrivato fino alla fine del video, ti invitiamo a mettere mi piace e a iscriverti al canale. Se hai qualche azienda da analizzare scrivicelo nei commenti e cercheremo di fare del nostro meglio. Alla prossima!